San Giuliano San Giuliano dove sei? Guardate, scusami, Massimo, mi fai un primo piano dello sguardo di disprezzo che fa De Luca in questa foto qua? Manco se San Giuliano stesse spalmando la maionese sul babà neanche in quel caso lì l'ora De Luca, San Giuliano, nuovo scontro De Luca, abbiamo avuto in quest'anno 120 presenze di ministri in campagna una cosa sconvolgente, 27 presenze per San Giuliano che Dio lo abbia inglorato 120 ministri in visita in un anno vuol dire una media di un ministro ogni tre giorni praticamente De Luca è un anno che fa da guida turistica De Luca, ministri in visita in campagna, solo propaganda tutti vanno lì e però nessuno gli sblocca i fondi per la campagna ormai De Luca è convinto che vadano lì solo per prenderlo per il culo sai che ti saluta tanto? chi? Sto fitto ma se De Luca sta facendo dei nemici nel governo meno male che almeno col suo partito continua a coltivare ottimi rapporti De Luca, signora del PD, guidato da imbecilli perfetto, beh un gran bel rapporto insomma, a lui ce l'ha con tutti Franceschini, Boccia, Orlando ormai De Luca combatte da solo è un cavaliere solitario come Don Quixote della Mancia solo che è pure senza mancia perché comunque i fondi non glieli danno vediamolo vedete